A giugno, nell'ultima puntata della stagione di, Pomeriggio 5, Barbara D'Urso aveva salutato con calore i suoi affezionati spettatori. Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre, queste le sue parole. Tuttavia, sembra che questa promessa non sarà mantenuta. Mediaset ha diffuso un comunicato ufficiale breve per annunciare un cambiamento alla guida del famoso programma pomeridiano su Canale 5. Barbara D'Urso, icona della rete, non sarà più alla conduzione di, Pomeriggio 5. Canale 5 e Barbara D'Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più, Pomeriggio 5, ha dichiarato la rete nel suo comunicato. Nel comunicato, Mediaset ha voluto ringraziare l'esperta presentatrice per il suo impegno e la professionalità dimostrata nel corso degli anni. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete, si legge nella nota. Nonostante l'addio al programma pomeridiano, il contratto di Barbara D'Urso con Mediaset rimarrà in vigore fino a dicembre 2023. Ciò significa che la popolare presentatrice non scomparirà completamente dagli schermi dei suoi fan. Infatti, sia Canale 5 che Barbara D'Urso hanno l'intenzione di esplorare nuovi progetti editoriali in cui la conduttrice potrà mettersi in gioco. Al momento, non è ancora chiaro chi prenderà il posto di D'Urso alla conduzione di Pomeriggio 5. Secondo Davide Maggio.it, portale esperto di retroscena televisivi, il posto della D'Urso sarà occupato da Mirta Merlino. La nota giornalista, dopo aver guidato con successo, l'aria che tira, sulla 7, ha deciso di lasciare la rete di Urbano Cairo. Nonostante i pettegolezzi che circolano, le ragioni di questa decisione restano ancora avvolte nel mistero. Tuttavia, pare che il suo ingresso in Mediaset sia imminente. Per scoprire se i pettegolezzi corrispondono alla realtà, dovremo aspettare conferme ufficiali, poiché al momento tutto è ancora incerto. Questa notizia ha certamente lasciato i fedeli spettatori del programma in attesa di ulteriori dettagli e sviluppi. La partenza di Barbara D'Urso segna la fine di un'era per Pomeriggio 5. Sarà interessante vedere come il programma si evolverà nel posto d'Urso. Grazie a tutti.